Domenica 26 giugno, il sole sorge le 5.26 e tramonta le 21.07. La luna si leva a mezzanotte e 16 e cala le 11.48. La fase è la luna piena. Vigilio è un trentino di origine romana, vissuto tra la fine del IV e l'inizio del V secolo, terzo vescovo di Trento. Su suggerimento di Ambrogio, vescovo di Milano, Vigilio affida a tre presbiteri cappadoci, Sisigno, Martirio e Alessandro, l'evangelizzazione della Anaunia, attuale Val di Nonna. I tre che aveva personalmente formato verranno poi martirizzati. Vigilio invia le loro reliqui a Costantinopoli e a Milano, dove vengono accolte rispettivamente da Giovanni Crisostomo e Simpliciano. Un'antica tradizione racconta che il martirio del vescovo, patrono di Trento, si sia consumato a colpe di zoccolo in Val Rendena. Ciò che l'occhio ha visto il cuore non dimentica.